Oggi sono andato a trovare Bertilpin, fondatore del Milan, al cimitero monumentale di Milano. Ma capire dove andare è stato un po' difficile, così ho deciso di spiegare come fare. Per chi volesse andare a ringraziarlo, per aver creato, ciò che appassiona, milioni di tifosi. Una volta dentro, dovete entrare nella Galleria Levante, quindi sulla destra. Se entrerete dalla stessa porta che ho stato io, troverete anche Giuseppe Meazza, subito sulla sinistra. Scendete questi pochi scalini e percorrete questo lungo corridoio. E, quasi in fondo, sulla destra, troverete i resti del fondatore rossonero. Come vedete, oltre a essere scritto sul marmo che sia stato, molti tifosi hanno voluto umaggiarlo con doni, come una bellissima sciarpa e diversi adesivi. Penso sia bello che i milanisti vodano a trovarlo e ringraziarlo almeno una volta nella propria vita. Per capire che punto fermarvi, controllate questi numeri in alto. Chilpin si trova al quindicesimo. Anche io ho voluto lasciare un piccolo omaggio, il mio braccialetto.